Ciao a tutti ragazzi, sono i 76 e benvenuti in questo nuovo episodio di Impact Flux Allora, in questo episodio abbiamo detto che devo farla a casa, solo che pensandoci ho detto La facciamo in live, infatti uscirà un live No, un meteorite è caduto, oh mio dio Un meteorite è caduto e ha fatto un bel po' di nando in effetti La foresta brucia e casa qui, non si può fare più Ok Allora, abbiamo tentato di fare un paio di missioni nel mentre con questo episodio Così, stasera in live, e sì, live sarà stasera Possiamo tranquillamente farci la nostra bellissima casetta senza tanti problemi Dovremo trovare anche un lughetto piccolino, ma lo troveremo, no problem Ok, io andavo, io volevo fare tipo questa cosa del, questi qui che sono più semplici Però potrei andare più o meno verso la fine di qui, anche perché poi mi chiederà di andare nel land, ne sono certo E dovrei uccidere anche un bel po' di questi pig, sinceramente Perché tipo avrei bisogno di un sacco di carne di maiale Dove è andata la carne di maiale, ragazzi? Oh Dove? Dov'è la carne di maiale? Tan 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 La ricerca della carne di maiale, no davvero, è finita ragazzi Non la trovo più Vabbè, strano, è scomparsa la carne di maiale, no problem Ah, forse è bruciata, non penso però Boh, non lo so, comunque è bruciata, sicuramente è scomparsa, non ci sono dubbi E allora, dobbiamo uccidere un paio di amichetti molto coccolosi, quindi mi sa che non è massimo scendere E anche prima di fare questa missione abbiamo, allora, Stick Knight che comunque richiede un bel po' di pork chop, ok Ce ne ho pochetti, però in teoria dovrei riuscire a farci un numero preciso di 10 Poi prima sarà fare le altre cose, magari quelle le faremo quando avremo una farm bella corposa Per il momento ci contentiamo di questi pork chop molto a caso E allora, dicevo, devo fare magari quella dei fiori, quella più semplice Che è, se non sbaglio, not enough things No, era quella magic, uh, c'è una nuova Oh, Town Crack, questa la facciamo magari presto, la facciamo, no problem per ora Too many things, ah nel meno Ah, a proposito, questo Sì, dovrò prenderci un sacco di iron chest Allora, devo, devo, devo Andare qui in flower abound, perfetto E farmi queste robe, mi servono i mystical Tutti i mystical sostanzialmente Tutti i colori Quindi, dovrò prendere un sacco di fiorellini piccoline coccolose Mi serviranno questi qua Mystical, uno Mystical C'è solo un sacco, ragazzi Uh, maiali, maiali, ah go go Questi, li possiamo uccidere Ma noi prendiamo un po' di bistecche Ma noi riusciamo anche ad arrivare a 10 Ok, questo Questo è un mystical, sì Ok, prendiamo tutti questi mystical strani E poi, vediamo un po' cosa farcene Anche perché sono un sacco, tipo Eh, questi sono, eh, mystica yellow, ok Tutti i colori sono, mystica yellow, red, green Strani, questo è herb garden A caso Ok, maiale Io Sono qui Però se mi guardi così non posso uccidersi No, scherzavo Ok Cattiveria Allora, devo recuperare un attimo Tutti i fiori possibili Immaginabili Come ho già detto Cosa Poi c'è un ple Questa è la pneumaticraft Giusto Botenia 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 Ok Ne abbiamo parecchi, tipo E Sicuramente non so se tipo Posso fare così Adesso me lo vedo Ah, devo averne fatto sotto di tutti Ok Uh, ora in eternità ci vorrà Però prendiamone abbastanza Stavate che forse ce li abbiamo un po' a casa anche Ora andiamo a vedere pure magari a casa Prendiamo un paio di questi fiori Per il momento E poi magari torniamo a vedere se abbiamo altri Ok Uh, qui ce ne sono altri così carini e colosi Paolo, quanti ce ne abbiamo? Oh mio dio Non basta Non serve nemmeno andare a casa Ne trovi quanti ne vuoi qua Ok E Uh, ok Perfetto Ne abbiamo 4, 4, 5 2 Un paio di questi Siamo diversi Allora, torniamo un attimo a casa Andiamo tipo a casa Casa vera non è propriamente vera Però è vera più o meno E se non lagga magari Che Sti giorni ho tipo Ho problemi di connessione sti giorni ragazzi L'odio davvero sta cosa E allora Dovrei avere un paio di questi Mi servono giusto Masciamo queste bistecche Prendiamo un po' di pane Pane da un sacco tipo ragazzi Perfetto Il pane è tipo una cosa fantastica E Allora dove scrivere qua Mystical Mystical Ok Perfetto Allora Questo, questo, questo e questo Ci lasciamo tipo questi sapling Queste stronzate varie Ok E Arrivo subitissimo ragazzi Ok Dicevo Ehm Bisogneranno un paio di fiori Belli e coccolosi Qua non c'è nulla Qua Niente Qua Nemmeno Poi abbiamo tanto questo Oddio Quanto laga Quando uso sta modalità Perfetto E Allora Più o meno Abbiamo Cinque Se vi erano un sacco Ancora E magari Li troviamo anche qua vicino Però sono quasi Queste canna di zucchero Non so quanto Potrebbero essere A momento utili Anche perché più o meno Abbiamo fatto tutto Questo e questo Ah Indigo No Che indigo Non mi interessa Ok Torniamo all'altra parte Di chiamare Lì c'è un po' più di roba Tipo a casa vera E se non sbaglio Dove averle anche lasciato Un paio di queste cose qua Mi serve Soprattutto una bistecca Di raw pork chop E 4 di polli Ok Sarà un problema quello Perché non ne ho Tantissima di roba Però vabbè Fa nulla Adesso andiamo avanti Vediamo un po' Che ci vogliamo trovare Allora Veniamo un paio di questi fiori Tutti quelli che possiamo Anzi Ok Dove farmi una matura Di meteorite Appena possibile Ehm Mystical Mystical Giusto sono Mystical No questa non è mystica Vai via 1 710 Aggiungere questi fiori strani Anche qui Ok Abbiamo aggiunto 1 8 No 7 di quelle comete Tipo Si comete Però non so Comete Le grey Non so sicuramente le grey Si arrivano Penso di si comunque Oddio bisogna essere tipo malato Prendere tutti questi fiori Oh mio dio Quanto odio sta botegna Già mi piacciono le missioni Da botegna ragazzi Sono brutti Sono brutte Sono brutte Devo prendere tutti questi fiori strani Cosi strani Ovunque Ok fiori No Perfetto Allora la cometa L'abbiamo vista Ehm Vediamo un po' Qua Uh Perché arrivo a expa A caso arriva Boh Va bene Comunque abbiamo 35 livelli Ragazzi Possiamo fare un sacco di cose Questa 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 La cometa La cometa La cometa Mi sa che stava qui sotto Qui dietro Eccola qua Perfetto Vediamo un po' Detect Ok l'ha fatta Ehm Gialli Blu E altri fiori Tanto noi prendiamo Prendiamoli tutti Tanto Chi se ne frega Serve 8 di tutto Mi serve Ehm Quello come lo blocco Boh Lasciamola Chi se ne frega Ok Rosa Mi serviranno anche i maiali Maiali Dove siete Stronzetti Pecore No mi interessano Blu Ok Questo è quello indigo Perfetto Vedete ora inizio a già capire Quali sono i fiori Che devo prendere Quali no Ehm Perfetto Questi no Questi arancioni si Questi anche Ehm Oddio Sembrava un maiale Sembrava invece non lo è Dovrei andare a dormire Anche perché sennò Diventa più pericolosa La notte Ante la ricerca di queste piccole cose La notte penso sia Tanto pericolosa Ehm Maiali non ce ne sono ragazzi Tipo una cosa Un po' più cattiva Niente niente maiali Non so che tipo di frutto sia questo Dragon fruit What? Cos'è un dragon fruit? Tipo ok si Un frutto di drago Perfetto Cos'è un frutto di drago? Cose strane Ok E allora vediamo un po' Cosa ci manca Ci mancano I mystic Ok ci sono gialli Ehm Pink Ehm Grey Ok E ora E orange anche Pink Ok pink Ne ho sette Mi sembra un altro di pink Ok Allora andiamo prima Da fare la nanna Va se no moriamo Se no moriamo Ci senti che ti vuole ammazzare Ci vuole ammazzare Una cosa bruttissima E ok Allora mi servono giusto i pink E ok Un paio di cosette Allora Allora vediamo un attimo se ci sono a trovare magari di polli qua vicino Che intera comunque ci sono un paio di polletti qua vicino E troviamo anche i fiori E troviamo anche i fiori visto che ci siamo Ci sono anche dei funghi qua belli E colorini Un giallo che mi serviva Perché un giallo non se ne trovano tanti Questa è la prima maticraft Li prenderemo ragazzi Li serviranno Rossi Mi sa che rossi li ho presi abbastanza No uno me ne manca di rosso Anzi mi sa che non manco fanno parti i rossi No ok non c'entra Ehm Un pink mi serve Allora vediamo un po' Pink 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 Eccolo lì Eccolo lì Ok pink fatto Mi servono gialli Arancioni E grey Grey quanti ne ho Grey ne ho cinque Poi ci sono anche i light grey Oh mio dio Ah arancioni Cinque Perfetto Me ne servono pochi allora Ok E già lì il problema è che Sono difficili a trovare Perca vacca Sembra non essere più complicati al momento Andiamo di lì magari No andiamo di qua Che magari Troviamo questo lì un po' più figo Ok solo che tipo non ho cibo da mangiare Sapete Mmm Arancioni Eccolo lì Opla E siamo a 6 Me ne servono ancora un po' Oh l'hai visto qualcun altro qua vicino Ah eccoti qua T'ho visto bello Non mi scappi E i gialli Sono tipo una cosa assurda Non si trovano Qua dovrò prendere questi Perché questi mi danno saturation Che sono Che è molto buona sinceramente come cosa Penso che tipo Possiamo mangiarli così Per darci saturation Però non so fino a quanto ce ne danno saturation No non ce ne danno più saturation Vabbè comunque è buono Ok Abbiamo 8 Perfetto Solo quei gialli ci mancano vero Ah gialli E poi vabbè i light grey Che No i grey normali Che vabbè Quali sono un problema Perché Quali sono ancora più difficili da trovare E poi i grey sono Questi qua Ok questi strani Sento rumori di zombie Oh mio dio Zombie strani Pollo Ciao Tu morirai 7 Mi sarebbero uccide un paio di polli Ne un po Pollo Ciao Questa ricerca può essere utile Anche per trovare questi polli ragazzi Gialli Dove stanno quei gialli Non se ne trovo Questa cos'è Black No Prendiamo un altro Perché magari tipo ce ne chiederà Di prendere anche gli altri In futuro Quindi Voglio tenersene tanti Tanto sono un detect Quindi cerremo poi i fiorellini Non so nemmeno a cosa servono Però Teniamoci So che questi tipo servono per Per Il mana Però Boh Per il resto Boh Davvero Ok si troviamo tanto un pollo E un altro maialino E poi abbiamo completato anche la quest Degli chef Si La quest chef Light grey No mi serve proprio grey Dove diamine sono Oh con lo giallo Per fatto giallo Mi servono Eh 4 ancora Guarda che gialli non se ne trovano ragazzi Tipo Penso sia complicatissimo Trovare i gialli Questo Ok Ho preso quello giallo Si Ok 5 Ah Andare a forza di lì Ah no eccolo qui Eccolo qui Oh 2 ce ne sono Porcacca Non è che era difficile Ok Giallo E giallo anche questo Ok siamo a 7 Ne manca un altro Ne manca Ok Pensavo di aver visto dei polli Invece no Era stato un alberello di schifo Ok Eeeh Gialli 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 Uno giallo E poi grey Light grey No i grey normali Scusate No i light grey Quali saranno un problema Tanto problematico In effetti Eeeh Dove trovo quei grey Scusate Quali sono davvero difficili In sto punto Ci sono alcuni Che sono complicatissimi Chopper plant Oddio Cos'è strane Abbiamo mati craft Tipo un altro mod Che non ho mai visto Eeeh Oh delle pesche Pesche Buono Ok scusa Perfetto Eeeh Mangiamo una pesca Wow Ci da tantissimo Oh mio dio Uh uh grey Grey Perfetto Probabilmente perché non si vedono i grey Sapete Forse qual è il vero Il vero problema Oh Non ho frecce Devo venirti a beccare Pronto Sto arrivando Sto arrivando Da 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 ta Ok mi ha pure visto Tipo ha detto No non farlo Pam Morto A cattiveria Desinolo Lisse Ok 10 di questi ce li abbiamo Andiamo quindi a dare Eh Facciamo finally fluorescent Magari più facile Ok uno Ok Uno giallo Eccolo qua Ha fatto anche gialli Perfetto Adesso mi siamo stanto Quei grey Ehm Perché non ha capto in tebollina benefits Però l'ho messa io tipo Tempo fa Sì l'ho messa io Però È l'unico modo Non è che gioca altra gente In questo server In effetti Quindi l'unica persona Che può essere stato È stato io Qua sono un po' gli infiniti Proprio E Niente ragazzi I grey proprio Dicono no alla vita E no alla risurrezione Ma davvero Dove sono i grey? Per cacca Ma Forse è meglio Torna dall'altra casa Tipo da lì Ci trovo un paio di più Sì In effetti Casa vera Poi non è proprio vera Però dettagli Ok E magari facciamoci anche Delle patate Ok Dovrei poter Mangiare anche Tipo altre cose Le bistecche Vabbè Però lasciamo così Ah questi qui Non li avevo mangiati ancora Ok Allora mi servono questi qui I mystical grey Ah un'altra due me ne servono poi Non è che ne servono tante Ehm Grey 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 Oh Lì lì Sembra quello Sembra Orca cacca Qua però Ho distrutto tutto Ho distrutto vicino casa Nel effetti qua Casa non si può fare Più Ok uno Perfetto Serviamo Alla ricerca Del fiore grey Questo è un altro grey Non mi serve Questo è un garden C'è un pecore Tanti di quelle pecore Che potrei tipo Mazzarle tutte Senza Avere Problemi Questo è un light Porca vacca Se fosse uno normale E un maiale Ciao maiale Maiale Qua Perfetto Andiamo 12 bistecche Perfetto Siamo messi bene Ma ce ne ho date 3 Ce ne ho date Oh mio dio Tantissimo Light E che cavolo A me serve Quello normale Stupido grey È nero Quello Qua si è uguale a nero È nero Brutta cosa Black Dove cavolo Avete posizionato Maiale È stato tu vero Sei stato tu No Non sei stato tu Ehm Niente Perché questi fiori Dovano essere colorati Perché non possono essere Tutti uguali No eh Uno deve stare C'è parte Un episodio Per trovarli Dove cavolo sono Ma davvero Dove sono Avete Cioè Stando questi Questi ci sono Questi light Non ci sono quei normali È assurdo What the fuck Un fiore mi serve eh Uno di cacca Uno di cacca Non ti chiamo cacca Se tu esci però eh Sicuramente tipo Ne avrò saltati alcuni Volevo dire Ulisse Guarda che hai saltati 300 milioni Dietro di te A caso E poi tipo Scoprirà che sono un idiota E vabbè Quello capita E Ok Lì non c'è nulla Pensavo io Ho preso una cosa di buona Invece no Vediamo un po' Fiori Fiori Tanti fiori Non ce ne sono No un sapling è quello Peccato Ma davvero Perché mi rubano i fiori È fatto così A strano modo Poi è tipo strano Rispetto agli altri È un fuori cattivo Tanto cattivo Uh Great wood Ma Quasi quasi qui sotto Dove c'è qualcosa Anche no Se non penso Perché Tipo dall'altra parte Probabilmente c'è la roba Sì E l'altro Great wood Sì infatti Ok Dove siete Fiori di merda Fiori orrendi Persone orrenze Persone cattive No davvero What the fuck Where is this flower Where is this flower Mi arrendo ragazzi Mi arrendo Lui non c'è No davvero Dove è Cioè Ci sono 18 milioni Di tipi di fiori Lui non c'è Lui non c'è Si può craftare No Vero È l'unico Vero È l'unico Oh mio dio Oh mio dio Lo devo trovare Lo devo trovare Lo devo trovare Da ogni costo Il nostro fiorellino malvagio È pronto a saltarci In ogni momento Non vuole essere scovato Oddio qua c'è tanto Tanto flux Di towncraft Perché sennò Non faceva così Oscuro Questo è Lightgrame Ne avrò saltati un sacco Ne sono certo Lime Ah La cattiveria La cattiveria Verso quel fiore Morirai male Non sarai più Un mio fiore preferito Non lo sei mai stato Sinceramente Ben ti sta Così impari Questo è Lightgrame No davvero Sto andando in giro così Molto a caso Ok Facciamo una quest Nel mentre Magari Magari Tipo Ritorna Ah Ora devo Ok devo Stanto cuocerle Quindi Perfetto Dove metterle a cuocere Magari Ora lo facciamo E magari Troviamo Sta benedetto Oh Eccolo qua Gray di merda Ragazzi Gli altri Gli altri E' una persona Orrenda Una persona Orrenda E mi servirà Rossi ce li ho Che bello Che bello Adio Dio ti vuole male Tanto male Fiori di cacca Ora Ora i light gray Che dovevo prendere Non li ho presi più Capito E quello è il bello Che sono tanti fiori Che avrò lasciato indietro Probabilmente Che mi serviranno Tipo questi blu Che non ho mai visto Adesso Tipo a caso Sono Della bottenia Sono Perché la bottenia Così Ha molta Delicatezza Nella scelta Dei colori Perché non si poteva Scegliere due colori Di merda No eh Purple Ah lì c'è un paio Di gray Vabbè Facciamo che La ricerca Di questi fiori Magari lo facciamo In live Sì Penso una cosa migliore Da fare Tanto Quella facile E allora Per il momento Dobbiamo tenerli Vero Perché se mi sa Se li lasciamo Da qualche parte No Penso che Dobbiamo tenerli E allora Casa vera E qua vicino Io mi Mi spegnere Mi spegnere No Mi mettere qui dentro Un attimo Perché tutto mangiamo Ok Mi mettere qui dentro I fiori Perfetto Poi li prendiamo Appena possibile Non sappiamo che sono Questi fiori Ok E andrei a cuocere Un paio di cosette Ok Queste qua Le prendiamo Queste qua Anche questa Ok Perfetto Andiamo dall'altra parte Casa Ok E devo anche chiudere qua Nel fatto Dorth Bam Finalmente la dorth Non mettiamo l'aggiorno E Servirà a cuocere Normalmente Vero Ok Quindi queste Magari però Mi faccio un'altra Fornace Potrebbe essere Un'ottima idea Forse Che abbiamo Stato una fornace Di cacca Una solamente Siamo delle persone Orrende Non vogliamo fare Le fornaci belle E bam Ok 8 Giusto Penso di sì Abbiamo un po' di call Qui dentro Quindi Abbiamo il call Di qua Mettiamo qua Perfetto E basta Giusto Dovrebbe essere Ma parte Questa quest Mi dà poi La fin fine Delle stronzate Cioè Barley seed Magari sono buoni Quali sì Il resto Boh Roba inutile Ora facciamo Un po' di Cottura veloce Sì ci vorrà Un'eternità E Ah mi sa che Ce ne abbiamo Un paio ragazzi Un paio di questi Abbiamo Una di questa Quindi diciamo Farne anche più velocemente Ehm Sì non abbiamo Anche altri Food Non abbiamo Ok sette Un altro solamente Mi serve Qua mi ne sono Un altro Quattro Dai fammi un altro Di questo Perfetto L'ha preso Ok Mi serve Stato il porccio Porccio Vai Cucete Devo farmi L'altro cosa di questo Udrasudast Mi ha fatto Ah è vero sì Mi aveva fatto Un pochetto in più Allora mettiamolo qua Ok Uh Ferro Mettiamolo qua Devo farmi Qualcosa Più presto Perché tipo Non c'ho voglia Di fare Tutta cosa Manualmente Levasi cose Metti sti cose Va Cuoci Bello Cuoci Sette Me ne servono Tanto gli altri Ragazzi Un altro di questi Siamo a posto E A proposito Darksteel Eh non posso fare Stato uno smelter Porcacca Non abbiamo uno smelter Sì forse abbiamo Un po' di darksteel Non penso Di tipo Minerali Mettevo sempre Da quella parte Ce l'abbiamo Altra darksteel Ragazzi Il grinder Uh Il meteore è caduto Bam Ok questo lo prendiamo E tadan Fatto finalmente E prendiamo Questo quarter of life Ok Possiamo agire Una vita in più Perfetto Mi piace quando Fa le vite in più Sei una persona orrenda Però sei anche bella Così Bam Cinque vite ragazzi Nice Questo mi piace Ok E Babababam Vediamo un po' Cosa c'è Ok Questi riesco anche a fare Sinceramente Sono abbastanza semplici E mi da un bel po' di roba Tipo Fresh milk O fresh water Fresh milk è più facile Infatti Tipo questo Tutte cose belle Oh mio dio Fareci un sacco di queste cose I bread Mi servono Ehm Ah Cavolo Non ho abbastanza A me potrei farmeli I bread Sapete La vera di seed Ah c'è parli Parli seed C'è una nana Prima di tutto va Che magari Non moriamo Così molto a caso E Bababam Mi raccomando Non parlatevi live Perché sennò Siete persone orrende Sappiatelo E Devo tanto dare dei Ehm Bread Giusto Uh dei toast Cos'è di toast Scusate Toast Nei Va bene Mi ha capito che Nei non funziona Ehm Va bene Lo vedremo presto Lo vedremo Non è un problema Magari E allora Prendiamo ai barley I barley sono come i seed Normali ragazzi Però la cosa Bella E che Uno di questo È molto più utile Rispetto a tanti A tanti di questi Ok Guardate cosa facciamo Adesso Bambababam Gli possiamo cuocere E tipo ci danno Un sacco di roba E tipo ci danno La farina Ci danno Ok Perfetto E questi barley Fatti così Ci danno il barley floor Oddio Mi serviranno Amico Hai perso un po' di Armature Tipo a caso Cioè un po' di armature Un po' di Un po' di vita Magari Che dici Giusto un pochetto E allora Vediamo un po' Così Vediamo un po' Quanti ne abbiamo Una Wow Ho soltato un altro Undici E tre Sono quattordici Mentre uno Altro Finiamo ormai Questa cosa Va Oddio Barley Tipo consuma Comunque Ok Riuscì di Washotto adesso Ragazzi Buona figata Ok E adesso Mi metto Stanto a cuocere La nostra Bellissima Fornace Nelle nostre Due fornaci Magari Una qua E una da questa parte Ok Perfetto Devo stanto darli Giusto Dice Ah No Devo craftarli Porca vacca No Devo craftarli Diamine Uffa Con questi Non posso fare Vero I panini Posso tanto Smeltarli Per fare i panini Ah Che cacca Ragazzi Sono costato A farne tanti Va bene Dai lo facciamo Magari in live Tansera Però adesso Vi saluto Ci vediamo Nel prossimo video Dall'inizio 76 Dai fiori maledetti Tutto Li prenderemo Aldri Tranquilli Ragazzi Li prenderemo Li prenderemo Ciao ciao ragazzi